Giovani buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926 per prima cosa iscriviti al canale è gratis Signori parleremo anche di Giorgini in questo video più avanti Ma andiamo step by step, intervista di Kvara a Dazon E' uscito se non l'avete visto andatevelo a recuperare l'intervista per Dazon Heroes a Kvara Skeia Scusatemi, proprio fatta da Dazon Bella intervista, 18 minuti ma io ve la vado a racchiudere in 2, 3, 4, 5 minuti Detto questo ho il gruppo Telegram, link in descrizione Instagram, TikTok, mi sa che lo devo aggiungere però è tutto in descrizione Tutti gli altri canali social di Neapolis 1926 sono in descrizione quindi andate e iscrivetevi anche lì, vi prego Allora, signori, parte a bomba l'intervista a Kvice perché gli domandano, gli fanno vedere un paio di foto Gli dicono qual è il tuo soprannome preferito, c'è Kvaravaggio, c'è Kvaradona Ci sono altri nomi, Zizi e poi tutti questi altri nomi E lui dice, il mio preferito sinceramente è Kvaradona Perché essere paragonato proprio a Maradona è qualcosa di impensabile A uno che gioca nel Napoli però mi piace molto questo soprannome Quindi scelgo Kvaradona Ragazzi questo è un messaggio fortissimo che lancia Kvaradona al mondo napoletano Perché nessuno mai si è mai permesso di paragonarsi a Maradona E lui lo dice, io sì mi piace Kvaradona Voglio essere Maradona per i napoletani Ragazzi sono cose molto centrale, molto centrato questo ragazzo Poi gli domandano dello scudetto, tu sei superstizioso Gli domandano, si può dire per te questa parola scudetto E lui tranquillamente dice, non possiamo parlare ora di scudetto Ci mancano tante partite ma sogniamo naturalmente di vincere qualcosa di importante Lo merita la gente di questa città Perché mi hanno fatto sentire amore Mi hanno fatto sentire come fossi a casa dal primo giorno Napoli vive di calcio e Napoli si merita di vincere qualcosa di importante Sono parole d'amore di Kviccia verso noi difossi napoletani ragazzi E anche verso la città di Napoli Che in molti anni l'abbiamo sentito da vari bagniere di proprietà del Napoli Fra Cullibali, Insigne, Mertens Quindi c'è già questo attaccamento forte verso questo giocatore E poi hanno parlato anche di come si può fermare il buon Kviccia Come è possibile fermare il Kvara giocatore in campo Lui l'ha detto, per me possono studiare quello che gli pare Tanto i dribbling e le altre cose io me le invento sul momento Possono studiare quello che gli pare Io sono imprendibile, non mi prenderanno mai Possono studiare anche 20, 40, 30 ore di video su me Io ogni giorno cambio modo di attaccare E lui lo dice, molto spesso si vede che tu fai il tunnel Ed è un tocco di classe veramente difficile da farlo Questo tunnel, però tu lo fai con facilità estrema E lui dice, sì, devo dire la verità È il mio gioco preferito fare il tunnel Però mi devo immedesimare chi ho davanti Se posso fare un tunnel, se non posso farlo Se devo giocare con la squadra Se posso andare da solo Ecco, questa cosa qui L'ho visto proprio determinato Perché poi gli hanno fatto la domanda Ma tu con Spalletti c'è stato qualche diverbio? Perché devono andare a cercare l'esclusiva, no? E lui ha detto, no L'unica cosa che ho sbagliato È che a volte non passo la palla C'ho il topo, la testa bassa E non riesco a vedere i compagni vicini Ragazzi, questa è mentalità Questa è mentalità di migliorarsi giorno per giorno Quindi, good, quara E poi cos'è che gli hanno domandato Anche, scusatemi ragazzi Ah, chi preferivi Chi è il tuo giocatore preferito Fra Messi, Ronaldo C'è Mbappé in questo momento E lui ha detto Non me ne voglia Lionel Messi Ma io sono cresciuto con il mito di Cristiano Ronaldo Ovunque andrà a giocare Io farò il tifo per lui Perché io sono un suo idolo Io sono cresciuto con le partite di Cristiano Ronaldo E vedere due giocatori Che si contendono Questa cosa del miglior giocatore Per tutti questi anni Per dieci anni di fila È qualcosa di incredibile Se Ronaldo è Ronaldo Messi e Messi È proprio per questo Per questa lotta Che c'è stata fra di due Sempre in maniera sportiva Questa era racchiusa In pochi minuti L'intervista a Cvicia Kvarskeia E ora parliamo proprio di Giorginio Sì perché signori miei Il buon Giorginio E mi rivado a recuperare l'articolo Che io vi ho messo Scusatemi Diego quando usa Youtube Che vi ho messo nella community di Youtube Se non l'avete ancora letto Andatevelo a cercare Sulla community di Youtube Ragazzi Io ho messo Questa esclusiva Di Repubblica Il centrocambisto Italo-Brasignano In scadenza di contratto Col Chelsea A giugno Sta riflettendo sul da farsi E cerca di non affrettare le scelte Il suo sogno È tornare a Napoli La squadra che lo ha fatto diventare Un top player come regista Ma Newcastle e Barcellona Hanno già fatto passi importanti Per averlo Lui aspetta una mossa Da parte del Napoli Dal presidente Aurelio De Laurentiis Desiderio Scusatemi ho perso Desiderio tornare a vestire La maglia azzurra Ma l'operazione resta piuttosto complessa Lo stesso De Laurentiis Ha già scorsa estate Adottato una politica Sugli incalci molto onerosi E i 6 milioni Che Giorginio Attualmente guadagna In Inghilterra Sono fuori portata Per le casse societari Del Napoli Il giocatore Dovebbe tagliarsi L'ingalcio del 50% O giù di lì È disposto A venire incontro A De Laurentiis Magari spalmando L'ingalcio Per più anni di contratto Ma per far partire La trattativa Serve un passo Da parte del presidente Che valuterebbe Altri profili Che vuole Spalletti Ragazzi 31 anni E tu hai Lobotka in squadra No Fino al 2027 Ve l'ho messo anche Sulla Chiamunica Lobotka Ha anche Accettato L'offerta di rinnovo Del Napoli Ha accettato Fino al 2027 Bonsanis La Lobotka Con opzione Per il 2028 Addirittura Quindi signori Andare a prendere Un Giorginio A 31 anni A 6 milioni A stagione Poi naturalmente Se lo deve Spalmare L'avete sentito Anche voi Dovrebbe Dimezzarsi Lo stipendio Da 6 a 3 milioni Perché il Napoli Non va oltre Quei 3 milioni Io penso che De Laurentiis Qualche sacrificio Per tenere i nuovi Kim Soprattutto Kim Potenzialmente Kvara Ragazzi Andrà a sopra I 3 milioni Sicuramente Il buon Aurelio De Laurentiis Ragazzi Perché Non puoi farti Scappare Questi talenti Dopo un anno Lo sa anche Aurelio De Laurentiis Che dopo un anno Fai poca plus valenza Ecco Quindi Sappiamo Com'è Aurelio De Laurentiis Quindi io penso Possa Andare incontro A A qualche Milioncino In più Per i due Talenti Che abbiamo Comprato Detto questo Fatemi sapere Voi cosa ne pensate Dell'intervista Di Kvicia E soprattutto Cosa ne pensate Di un ipotetico Il ritorno Di Giorginio A vestire la maglia Del Napoli Io penso Come si dice Le minestre riscaldate Non sono mai Buone Guaiù Vediamo il da farsi Perché Se prendi Giorginio Levi spazi a molti Iscriviti al canale Sempre e comunque Forza Napoli Da vostro Napolis 1926 Ciao Guaiù